Riusciamo a risuperarla, vero? Non lo so, io sto morendo, Steph Ti prego? Sì Ci siamo Dai, 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 dai Pare, devi billare tu al posto mio? Sei pronta? Steph, sto morendo, sto morendo, ok? Ho 13 di vita Questa sarà tipo la decima volta, e non sto scherzando, la decima tonda che faccio questo intro Quindi diciamo che non saremo molto stupiti e non avremo tanta enfasi Aspetta, ci provo, vai Steph, proponi Quest'oggi faremo una Skybase Wow, Steph, non l'avrei mai detto Ma come fai a sorprendermi così ogni volta, porca miseria? Non è la decima volta che lo sto sentendo Perché non riusciamo a trovare un accidente di bouncer, Steph Cavolo, quindi spiega, dimmi di più su questo video Mi ha tirato la curiosità, quindi forza Allora, in loro fare, a me lo devo spiegare perché è la prima volta che lo vedete Le altre nove volte sono cancellate Praticamente vogliamo fare la classica Skybase Però con la via di fuga, ovvero il bouncer, della serie Se qualcuno poi ci becca E ti beccano sempre? E ti beccano sempre Almeno avremo il bouncer per sopravvivere Certo, torneremo giù come tutti gli altri comuni mortali del game Però quantomeno non saremo morti e potremo continuare la partita In questo modo noi possiamo cercare di vincere il game con la Skybase E poi nel caso finire il game a terra se qualcuno ci butta giù Quindi, decimo tentativo in cui noi cerchiamo un bouncer Vi giuro, raga, non ci sono E ne stiamo cercando soltanto tre, ce ne bastano tre Dopo che ci servono un po' i materiali Ci serve essere nel punto giusto della zona Andare verso l'alto e via E poi bere anche un trampolino Qualcosa che comunque ci faccia scappare senza morire Ma niente, non si trovano nulla Anche i trampolini non si trovano più Quindi è un po' un problema Minimo un team Quindi ci tocca fightare Ok In ogni caso è la prima volta che noi proviamo a fare una Skybase in video Non l'abbiamo mai provata perché sappiamo quanto cavolo è difficile È quasi impossibile E adesso ci si è conformato, raga Dieci tentativi Poi vabbè, è proprio il bouncer il problema Il bouncer il problema Perché la Skybase insieme Serve un po' di fortuna con le zone Ti serve il punto isolato Da cui partire Quello è il punto fondamentale di tutto Sei tu nella villa? No C'è qualcuno? Non so se ero io Non lo so, non lo capisco Forse sì Io sono entrato? Ho un fucile a pompa Quindi comunque mi posso difendere Però Eh, io per sicurezza sono venuto ormai così Gli do una mano se c'è Non rischiamo Ma non penso Dove li hai visti scendere? Perché non è che ho guardato Io non Mi è sembrato che scendessero all'inizio Ok Quindi non credo qui Quindi è anche difficile che comunque siano qua Vero? No, la cosa che un po' mi sta lasciando perplessa È che la villa è totalmente vuota Cioè i posti delle ceste erano tutti vuoti Quindi nelle ceste Ma capita ogni tanto sta villa che vada male C'è proprio di Ogni tanto ha un sacco di roba Ogni tanto va malissimo Quando ti va malissimo Quando sei il decimo tentativo di un video ti deve andare malissimo Giusto così Perché non può andarti bene Che scherzi Io non ho le M16 Io ho il vampa Ok Bianco Però dai almeno Meglio di niente Ok io ho le M16 Allora me lo prendo al volo Ma sto iniziando a formare più legna possibile che comunque è sempre utile Sì beh Wops Ero io Sì ho misclicato perché non mi ha associato a piccone Vampa blu me lo prendo Mi prendo anche queste granate Le M16 che cos'era? Se tappo così bianco Se vuoi lo puoi prendere Al posto del vampa bianco sì lo preferisco Vai 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 Prendi 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 Materiali ne ho già 250 comunque In zona siamo Io sì uguale 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 Però zone isolate da qui sarà dura trovarne Allora attenzione Perché chiude molto centrale Perché esso li becchiamo e loro avranno armi leggendari esplosivi RPG quindi E 8000 di materiali che il massimo è 999 e loro hanno 8000 Quindi mi piace Mi piace Ma chissà se ci sono perché qua di fatto non è lootato Basta Sì però è bucato qua Ok Quindi qui hanno lootato ad esempio Ok Seguimi Sto continuando a farmare legna La stalla è lootata Sì vedo Capannone Eccoli Dove ho causare legna per forza Una terra Ok dove è l'altro L'altro è sopra di noi Sopra sopra? Sì È sceso Non lo vedo È basso Ucciso Ok Il medici mi serve Ok tiratelo Questo me lo prendo Il tattico scusa Ma faccio una povertà di armi Scilini Mitraglietta M16 verde Ho delle bende Il medici Sì in effetti Questo me lo prendo Ok Figuriamoci se aveva nel bounce raga Ma figurati Troppo a fortuna altrimenti Ok dai Buone kill Ci sta Ho sprecato un po' di legna Allora sembrava che non ne avessero Purtroppo Però comunque dai Non siamo messi male di quello Quindi sono poco preoccupato per ora Allora mi sono tirato il medici Mi sa che riprendo queste granate Le munizioni non le fa mai nessuna Tante Dai va bene così Andiamo? Sì Allora A questo punto Fere Per noi andare in una zona isolata È un casino Perché la zona è chiusa al centro Quindi dove è isolato? A Tilted? A Parco Pacifico? Da nessuna parte No beh perché tanto Secondo me Cosa estrema Lo facciamo senza il bounce Certo senza il salvataggio D'altronde se non ci beccano Non ci serve Salvarci Assolutamente no Sarà più difficile Poco ma sicuro Però dai Magari abbiamo fortuna e ci Per ora andiamo verso ovest E andiamo verso una zona isolata Mentre farmiamo legna Ok Continuiamo a cercare il bouncer Se non c'è il bouncer Ragazzi sarà una skybase normalissima La prima nel nostro canale E vediamo se riusciamo a vincerla allo stesso Tutto più difficile Ma se non si trova Non si trova Assolutamente sì Dieci tentativi raga No certo Poi bisogna arrendersi E farla alla vecchia maniera Ma poi perché hanno diminuito anche i trampolini? Non lo so Ma con quelli si trovano più Non lo so Cioè perlomeno ho l'impressione Io in patch notes Non ho letto che loro l'hanno diminuito Ma io non ne vedo più Io ne avevo due o tre game Io non ne vedo più Comunque guarda che a sto punto Almeno qualcosina Cioè dopo dieci game Almeno un trampolino Un bouncer Lo dovresti aver trovato Cioè sono dieci partite Non è che ti sto dicendo Un tentativo e ciccia Luttiamo questa villetta un attimo Che può avere un po' di fortuna Ho visto portaforte Nella zona delle fabbriche del lago Qua non c'è la cesta Purtroppo Ok Ok Vai veloce Con un po' di legna Farmo tutto qua Visto che ci sono Non c'è niente a ceste Niente Ok Let's go Let's go Let's go Veloci Magari il tetto Magari c'è uno di bouncer La cosa più importante È il punto da cui si inizia a billare Raga Quindi Dobbiamo andare nel posto Il più isolato possibile TTT 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 Era il rumore degli spari Ovviamente è già successo In un altro clip Perché ci abbiamo provato Dici dai ci provo anche senza il bouncer No morti subito Neanche finito di farla Perché c'è gente nascosta ovunque Tu chili 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 E poi compare qualcuno Che era nascosto Che riuscite di sparare la tua rampa Tipo Chi 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 Ovviamente non potevamo Tenere un tentativo così pessimo Ok Qua hanno già luttato Andiamo? Sì sono dietro di te Allora, parco pace Secondo me tipo da qua Se noi la buildiamo Non ci vede nessuno Però dipenderà da dove chiude il secondo cerchio Nel momento siamo già a 30 Meno player ci sono Di fronte a noi Eccoli qua Li ha chiamati Questo qui È praticamente morto Vorrei puntare quello Ma c'è l'altro che mi Mi dà noia Davvero? Allora, l'altro ha shield Quante volte l'hai dato l'altro? Eh, una volta 30 di shield Sto cercando di applicare troppi materiali Si è coperto bene Eh, anche io non vorrei Altri 30 di shield Sempre a lui? Io non ho neanche shield Sì, sempre a questo di destra Perché l'altro penso si stia curando ormai Arrivato a questo punto Dai, non ho neanche tutti questi colpi Cavolo Uno a terra Ok, rascio all'altro Uccisi Eh, vabbè Grande Ok Cos'è? Ce li ha, Steph Ce li ha Ce li ha Ce li ha No, no, no Devi darmeli Lo so Nella foga li ho presi Ma lo sapevo che non li dovevo prendere Tieni Questo lo voglio io Questo è tuo? No, vai, prendi Ok, 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 ok Forza, Steph Forza, Steph Io ho anche 900 E pure tu 780, dai È il nostro tentativo Cioè È questo, raga È questo Per forza Dai La fortuna È dalla nostra parte Per ora Sono pure tre Non li hanno usati Sì, ho visto Ho visto Perché li ho presi Ok Dalla foga ho preso tutta Guarda Ah, mio Dio Ok, ok, ok Sta anche chiudendo la zona Ok, ora scopriamo quanto è difficile Ok Se non c'è un punto isolato È un casino Allora, Steph La zona è molto lontana Alle nostre spalle Lo so Però qua è probabile Che ci sia ancora qualcuno Sì, dobbiamo fare una roba strana Noi dobbiamo andare a boschetto E billare da lì Davvero? E dobbiamo prendere un punto isolato Fere Hai ragione Cioè, se non siamo isolati Qualcuno ti vede sempre È troppo alta la skybase È troppo alta Dobbiamo per forza essere isolati Dimmi No, niente Volevo vedere se vi vi scelgine che ti avanzano Io mi sono resa conto che ho proprio zero Ma perché non li hai mai preso O te l'hanno tolto No, non ho mai preso Ho mai trovato Che sfiga Non ho preso un hit nel fight Quindi mi... Eh, infatti è quello che mi stavo chiedendo Allora hai avuto sfiga e basta No, non li trovo Non li trovo E non ne avevano neanche questi Eh, sì Questi ne avevano due Gli ho usato io Perché a me hanno picchiato come Ah, ok Hai fatto da scudo Esatto Bravo Grazie Bravo ragazzo Bravo soldato Allora, io voglio stare calma e rilassata Non farmi prendere dal panico Dallo stress Sai, mi verrebbe da dire Per il fatto che la decima registrazione Che è anche qui È isolato Però un po' Però andiamo avanti No, siamo troppo lontani comunque qui Quindi non sarebbe affattibile Senti qua, eh Ma sono lì giù No, non posso perdere tempo Vabbè Qua ce n'è uno Io ad esempio me lo prendo Ecco Quando è un bel cato Vabbè, 5 di shield Non è che mi cambino la vita Però Magari vinci per 5 di vita Mai dire mai in questo gioco Guarda Mai dire mai 20 vivi Meno player vivi Quando chiuderà il secondo cerchio Più è probabile che nessuno sia esattamente dove siamo noi Quindi è importantissimo questo numero Ok, 999 di legna Perfetto Allora Io ci sono vicinissima Continua a farmare Non so il punto da cui billare raga Decide È tutto lì Si decide tutto lì Lo so Tutto lì Fai un'ansia assurda La nostra decisione Più importante è quella Però secondo me Boschetto va bene Vero? Cioè sono zone ormai molto fuori E siamo pochi Cioè non so perché ultimamente su forne muoiono tutti in frettissima Ed essendo così pochi Dai non penso ci sia tutta sta gente fuori zona Cioè non lo so Che abbiamo tilted vicino Perché altrimenti a questo punto Guarda Non c'è nessuno No ma tilted li vedi Cioè ci vedono lì Che poi oddio non lo so eh Non lo so Steph Andiamo ancora un po' avanti A fare un po' avanti per sicurezza e poi andare Basta Cioè non possiamo farlo durare troppo Che sono arrivata a pieno pieno 35 di shield Sono anche utili Non voglio rovinare tutto Non voglio rovinare tutto Allora Hai iniziato a chiudere Ok Non vedi nessuno? Io mi sa questo dei player Dove? 105 No dai ti prego Già Che ci fai? Non è il non fightare raga Non è che non vogliamo fightare È il fatto di No è il fatto che ci rompono la scala La scala Certo che Non è per non fightare Il problema è che per forza dobbiamo essere isolati Perché se ce la rompono subito È un fallimento Andiamo da qua? Sì Ascolta Spero che siano distratti dal fatto che la zona sta chiudendo Ho capito? Perché quando compare una rampa È palpabile l'ansia Ho capito? Quando compare una rampa tutti si girano Certo Non c'è un suono Non c'è nulla Oh mio dio Su una rampa dobbiamo distruggere Sì c'è proprio l'allarme in gioco Doviamo andare Dai c'è anche un airdrop lì davanti Magari sono distratti da roba Pranta? Sì Ho il cuore a mille ti giuro Mi sta venendo No player di fronte a noi Ma colpa miseria Ci dovete rovinare il gioco Dai che noia Una terra E' dietro di te Ok Uccisi Ok Via 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 Prendo materiali perché ne avevano Così mi rifaccio dei materiali sprecati Vai Steph Devi costruire Mi sto tirando un medico un attimo Eh pure io Ma cosa ci facevano questi qua? Erano quelli che avevi visto Ho sudato Fred Sì erano quelli che avevo visto A quanto pare C'è fuori zona Un fight in quel modo Raga Andiamo Vado? Sì no basta No basta 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 Deve andare Sicura? Sì No beh dai spero non ci sia nessun altro accidenti Steph Cioè che cavolo Secondo me è probabile Eh vabbè ma che vuoi fare? Siamo undici vivi Eh lo so Per andare almeno un po' più in qua Vedi che c'è Niente Dobbiamo andare C'è un tipo su una montagna Una base su una montagna E quelli ci vedono Capito? Ah stai andando da qui Stavo tornando all'altro Ma vabbè La vedi quella montagna? E che ti devo dire? E questo è il problema Sto controllando un attimo intorno Quelli sono attivi Tutta la vita proprio Ci sparano già Torno indietro Ci sparano da Pinacoli No dai Te lo giuro Che noia Te lo giuro Ci hanno sparato da Pinacoli Ho visto i colpi Solo che erano Troppo long range E non riuscivano a ritarci Però so pure danno Perché sono di fretta Sì ma c'è E la gente è satanata Vedo una rampa No è impossibile Perché sono free kill Sono free kill Perché la gente vuole le free kill Ovvio Eh ma è normale Normale Non è che gli si può dire molto Il problema è che siamo solo nove Cioè lasciateci in pace Ma non l'endgame Riusciremo a farlo così Perché non ci riusciamo Altrimenti No non credo Non credo Adesso lo facciamo Da qui Da questa zona qua E vediamo Male che vada Scendiamo al volo Di cosa Mi devi stare vicinissima Sono vicino a te Davvero davvero vicina Mi servi Perché nel caso Se no mori Corri 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 Devi andare Devi andare La zona picchia La zona picchia Non riesco a starci davanti Forse sì ora Sì 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 Cavolo fa malissimo Avvisami se senti rumori eh Ci provo Ma la zona fa molto rumore Lo so anche io Infatti ho quel problema Sono concentrata Poi siamo molto in alto Quindi è difficile sentire i rumori Siamo arrivati Sì devi torno indietro Ok mi ha fatto scendere un colpo Purtroppo io non so a memoria Quante sono le scale Neanch'io Riusciamo a risuperarla Vero Non lo so Sto morendo Ti prego Sì Ci siamo Dai 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 Pertra devi billare Tu al posto mio Sei pronta Sto morendo Sto morendo Ok Ho 13 di vita Dritta così Ok Vai Togliti Faccio anche un po' così no 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 Dritta 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 Ma entriamo in zona Sì Vabbiamo un po' verso destra ora Così Sì Uno 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 Esatto Così brava Ah che ansia Ancora un altro po' Ho almeno un tentativo Ferma 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 Siamo dentro Ok mi devo tirare delle band Due sono ad est Due contro due lì Li vedi? No aspetta Mi sto tirando delle band Sono seria Le ho finite Scusami 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 Non volevo Riparo anche Guarda non rompermi Mi sto mettendo un'ansia Incredibile Io non sono fatta Per sopportare Questo tipo di stress Stef Due sono lì a 105 Non so se ci stanno osservando 5 No si stanno penso curando Ok Ok Due sono lì Due siamo noi C'è un altro player Che gobbi No intendo Dammi tutti i materiali Veloccia Mi sento più tranquillo Sì anche io Tieni Ok Perché io mi faccio prendere Troppo dal panico Ti ho dato anche 50 L'ho messa perché ho sentito il rumore E non c'era Però tanto ne ho tre Guarda comunque La nostra skype Da dove parte Lo so Tu non hai sentito il rumore Che si stava distruggendo? Ma poi c'è Penso che Sto tremando Io odio la skype Perché hai voluto Fa' sta challenge Guarda Non chiedetevelo mai più Ma siamo sicuri Che non prenderemo danno Uh li vedo lì sotto Lo vedi? Sì Non lo spara Due Non attiriamo la No 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 Infatti io li osservo Andiamo? Sì Ma scendiamo? No Non volevo scendere Ma no Steph Spera Hai passato Cioè hai passato attraverso quel blocco Ci hanno rovinato la skype Perché hai passato attraverso? L'hai visto com'era? No Mi ha fatto la stessa cosa anche a me Come mi hai fatto vai Io sono andata dritta E quindi non ho avuto il tempo di reazione Di fermarmi dopo che ti ho visto Perché ero dietro di te Questo è il player da solo Che fail Tolto tutto lo shield Aspetta io ti ucciso Io sto morendo dentro Vinciamo almeno il game a fare Ti prego No no Comunque che schifezza Perché passa in mezzo? Perché passa in mezzo? Non lo so Non penso che sia passato attraverso Vabbè questi Cioè la skype comunque ci vedevano Guarda Guarda dove stanno Hai qualcosa per Oh 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 Mi hanno provato a sniperare Sì aspetta Io tecnicamente ce l'ho ora Sono cascati? No O sono più in basso? Occhio ai missili Eh ci stanno tirando No ce l'avrebbero visto Tutta la vita Ce l'avrebbero distrutta subito Però mi rode Deve essere scesa così Io non ho più materiali Perché li ho dati tutti a te Ok Stai sempre vicino a me allora Quindi sono davvero incasinata Ti do tutto il mattone Tieni Grazie Ok non male Non male Loro hanno l'RPG Che servirebbe a noi Giustamente Povera 74 Lo so Zona 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 Via 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 Cavolo Mi sono incastrate Sono uscita Ci sta Ti ha sniperato Incredibile Sì stavo anche saltando e tutto Quindi vabbè Sto bravo Però ovviamente scendi da lì E non era Non era previsto Dover scendere così presto Sono tristissimo Infatti di sta roba Vabbè Anche loro Favano una skybase Oh Uno è cascato L'altro ti arriva addosso Dici È saltato Con qualcosa Lo vedi Grande Non te ne eri accorto No Attento C'è l'altro Che ovviamente Lo copre Casino Eh vabbè Ovviamente Ovviamente Dovevo fare un modify Che non avevo mai il tempo di fare Certo Che fastidio che abbiamo trovato La skybase Per quella storia lì raga Un fastidio incredibile No Abbastanza Abbastanza Vabbè dai Comunque è stato un tentativo È davvero difficile Riuscire a farla Davvero Davvero Ma anche perché comunque Da quando si faceva i tempi Dovrebbero confermare i consolini Ma sono quasi sicura Non aver fatto anche un pochettino L'altezza massima Qui per arrivare Anche secondo me Proprio perché la faceva troppa gente Anche secondo me Quindi è anche molto meno sensata Ed è molto più complessa Vabbè dai ci stava Comunque il tentativo L'abbiamo provato a fare È andato In ogni caso Qua sotto altri video Come sempre Iscriviti al canale E cliccate campanellina Se ancora non avete fatto E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao